amici michael tg sui che eccoci qua benvenuti a una nuova intervista oggi intervistiamo una persona che non ha vita più a sovico ma che insomma è rimasta nelle menti dei dei sovicesi avrete subito capito chi è ma sveliamola con la prima domanda nome e cognome laura de capitani numero di candeline sulla tua ultima torta di compleanno vera per forza 46 ok formazione scolastica allora le superiori ho fatto ragioneria che è l'attuale diciamo finanze marketing poi ho fatto scienze dell'educazione a milano e poi scienze religiose a bergamo mi ha permesso anche di insegnare religione esatto perché poi dopo l'intervista sarà parte anche fatta su questa cosa qui allora qual è la tua città natale allora io sono nata a lecco in ospedale a lecco e poi sono cresciuta osnago in provincia di lecco vicino a merate ok il libro che c'è sempre soluto comodino quindi il libro che non può mancare allora diciamo che sul comodino girano i libri che che leggo e quello che c'è adesso si chiama paolo borsellino per amore della verità che l'ultimo che sto leggendo però diciamo che il libro che c'è sempre lì e che uso anche ogni giorno per scrivere la briciola di vangelo che tu conosci è il vangelo ovviamente ok allora un libro un passo che secondo te tutti devono leggere insomma devono conoscere allora un libro che a me è piaciuto tantissimo e che ho scoperto attraverso un'attività in oratorio che era un'esperienza in montagna con gli adolescenti è oscar e la dama in rosa di smith e secondo me è un libro che fa bene a tutti soprattutto ai giovani e agli adulti ok se potessi incontrare un personaggio storico un personaggio del passato chi sceglieresti ma soprattutto perché allora a me piacerebbe se fosse possibile ok scambiare due parole con Neil Armstrong ok perché ho scoperto che ha detto una frase non molto famosa quindi non la classica che tutti conosciamo ma un'altra che mi ha proprio colpito e ho detto beh cioè se potesse argomentarla se avessi modo di chiedergli un'argomentazione perché ha detto questa frase ha detto che la cosa più strabiliante non è che l'uomo sia arrivato a camminare sulla luna ma che dio sia sceso a camminare sulla terra allora mi ha svelato un po un aspetto di Armstrong che sicuramente è la sua fede evidentemente anche cristiana e detta da lui che immagino abbia fatto una fatica insormontabile per arrivare sulla luna beh vuol dire che tanta roba ecco un piatto che ti ricorda la tua infanzia allora la cotoletta con le patatine fritte che mi faceva mia nonna quando andavo a mangiare da lei dopo la scuola il mercoledì ok ok un film o una canzone preferita allora un film che a me piace tantissimo e che sto come dire rivedendo da anni perché lo faccio vedere a scuola ma credo che non rinuncerò mai a farlo vedere anche se lo so a memoria è liberi di scegliere che è un film italiano del 2016 sulla mafia cioè contro l'andrangheta ok invece una canzone o un autore se non è proprio una canzone una canzone che mi piace è l'isola che non c'è ok va bene come mai perché mi ricorda un'amicizia mi piace questa motivazione allora è sull'ultima domanda delle domande private personali poi invece dopo ci sono quelle lavorative tu insegna a scuola come prof e lo hai detto prima ma hai anche come lavoro insomma prendi parte anche all'oratorio come suora laica hai una preferenza tra queste due realtà se si quale e perché allora una preferenza no nel senso che sono due ambiti incredibilmente molto diversi cioè nel senso che magari si incontra tra virgolette la stessa utenza che sono le ragazze i ragazzi anche le famiglie però sono due ambienti proprio diversi quindi e sarebbe difficile scegliere sicuramente l'impegno a scuola che evidentemente essendo anche lavorativo è molto più ampio sia tempisticamente un po anche come come bacino di utenze d'incontro mi permette di incontrare molte realtà che magari in oratorio non è non è possibile però secondo me sono due realtà complementari cioè che non come dire non si sostituiscono l'una all'altra nel senso che si vedono i ragazzi in ambiti diversi infatti quando appunto insegnavo cioè insegnavo a a Biassono ed ero in oratorio a Sovico e anche a Biassono era proprio anche un valore aggiunto poter vedere tra virgolette i ragazzi in ambienti diversi ok allora ci vediamo tra poco ma l'intervista continua con le domande sul lavoro continua l'intervista a Laura De Capitani allora lo abbiamo detto prima tu sei una suora laica ti chiedo la differenza tra una suora laica una suora e una suora di clausura e poi perché hai scelto di diventare una suora laica allora diciamo che la cosa è un po complessa però partiamo dalla domanda che non è proprio così corretta cioè nel senso che la dicitura suora laica è un po una contraddizione perché l'essere suora vuol dire aver fatto i voti di castità povertà e obbedienza appartenendo ad un istituto religioso che quindi è una congregazione con un suo statuto un superiore se maschile una superiore se femminile e diciamo che la mia forma di consacrazione non appartiene ad una congregazione religiosa ma appartiene ad un ordine e quindi io di fatto anche se qualcuno appunto magari mi chiama suora o appunto dice che sono una sora di fatto non lo sono ma sono consacrata laica c'è una forma di consacrazione pubblica e solenne di dedizione quindi a Gesù è però nel mondo infatti la mia consacrazione non prevede un abito quindi neanche un senso di appartenenza così forte ad un istituto non prevede la vita comune anche se può essere una scelta che alcune mie consorelle fanno però una scelta libera ed è proprio una forma di consacrazione che prevede la condivisione concreta e quotidiana della vita di tutti e quindi dei laici cioè di coloro che non hanno fatto una scelta di vita religiosa ok e poi invece gli altri ordini quindi suora e suora di clausura allora sì diciamo che dipende un po dal carisma nel senso che all'interno delle congregazioni religiose le forme di clausura sono quelle congregazioni il cui carisma prevede una contemplazione una dedizione alla preghiera con una sorta di distacco concreto dal mondo anche se poi si viene sempre a scoprire ci si stupisce del fatto che siano molto più informati e nel mondo di quanto noi pensiamo ok allora adesso ti chiedo a che età hai sentito diciamo la vocazione vocazione intesa come insomma vicinanza alla fede e quindi poi che volevi far questo ok allora diciamo che va bene la mia vita è stata sempre in oratorio con i ragazzi quindi anche crescendo come giovane ho sempre vissuto un po quello che era anche il servizio in oratorio quindi anche i cammini di formazione cristiana aperti a tutti la catechesi il cammino giovani e diciamo che verso la fine delle superiori primi anni di università è nata un po' la domanda se Gesù mi chiedesse di dedicarmi a lui e diciamo che nelle esperienze che vivevo mi sembrava che questo potesse davvero essere il senso della mia vita e darmi la gioia e poi quindi all'inizio diciamo che avevo previsto una forma di congregazione appunto all'interno di un delle ausiliare diocesane come servizio proprio di dedizione esclusivamente pastorale poi per motivi personali familiari ho aspettato un po' nel fare questa scelta ho iniziato a lavorare e invece qui ho capito e quindi torno un po' anche a quello che dicevo prima che è difficile rapportare il lavoro e l'oratorio che la testimonianza cristiana parte anche e forse soprattutto dagli ambienti quotidiani come l'ambiente di lavoro e allora ho pensato e diciamo individuato questa forma di consacrazione che parte innanzitutto dalla quotidianità quindi dall'ambiente lavorativo e dallo stare in mezzo alla gente ok ok va bene allora ci entra poco ma l'intervista continua e continua l'intervista quindi prossima domanda ti sei mai pentita di questa tua scelta allora pentita no se mi siano arrivate domande o se qualche volta mi sia posto qualche dubbio sì 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 quello cioè ma penso che valga un po' per tutte le vocazioni e tutte le scelte anche credo un marito una moglie una mamma un papà qualche volta magari qualche domanda ecco se la pongono però pentita no quindi no pentita ma dubbi sì ok come l'hanno accolta invece i tuoi genitori quindi i genitori intesa anche come famiglia e i tuoi amici allora i miei genitori mi hanno educato alla fede fin da piccola per cui anche per loro la fede è sempre stata importante e non c'è mai stato nessun tipo di ostacolo ad una scelta religiosa assolutamente diciamo che non è stato semplicissimo far comprendere questo tipo di scelta perché nel vissuto comune la sua ora appunto magari ha un altro tipo di conformazione no quindi a volte mio papà ha provato a dire per esempio e magari se fossi andato in missione avrei capito di più no ma a volte così non si capisce bene un po' a metà ecco però di fatto diciamo che hanno scoperto questo tipo di consacrazione vivendola anche con me nel senso accompagnandomi in un certo senso in questi anni e quindi adesso hanno compreso bene di cosa si tratta e mi hanno sempre detto che se io sono contenta sono contenti anche loro ok bene quali sono stati i tuoi punti di riferimento durante la tua vita il tuo cammino? allora diciamo che per intraprendere questa strada e vivere il discernimento sono stati alcuni sacerdoti che hanno fatto proprio un po' da guida spirituale e la guida spirituale è una figura molto importante nella mia forma di consacrazione perché appunto non avendo a stretto contatto una superiora o delle consorelle quotidianamente deve esserci comunque qualcuno con cui tu ti confronti però poi devo dire che per me al di là di questa figura più ufficiale anche non so del delegato del vescovo all'interno dell'ordo virgino che appunto è la forma di consacrazione non avevamo ancora nominata per me in questi anni sono diventati tantissimo riferimento anche gli amici sposati piuttosto che hanno fatto altre scelte di vita perché secondo me ogni vocazione è importante nella sua fedeltà e quindi diventano un riferimento l'uno per l'altro lo abbiamo detto all'inizio dell'intervista tu sei stata tanti anni a Sovico allora dato che il TG e TG Sui che fortunatamente ci iniziano a seguire anche altre persone non solo di Sovico ma principalmente i Sovicesi cosa diresti ai Sovicesi che ti hanno nel cuore? Vai! Io vorrei dire che mi hanno dato tanto mi hanno dato tantissimo e hanno cambiato la mia vita e nonostante voglia bene alle persone in cui sono che incontro qui adesso con cui condivido c'è sempre un posto grande nel cuore e quando ne parlo mi viene sempre un po' di nostalgia ok va bene allora diciamo che parliamo sempre di insomma delle persone che hanno lasciato il segno su Sovico ma non solo diciamo nei tre paesi allora una delle scomparse che ci ha lasciato negli ultimi anni che ci ha lasciato tutti a bocca aperta è stata quella di Don Simone come te la spieghi questa mancanza? Eh non me la spiego allora non me la spiego tanto e diciamo che in certi momenti non mi sembra quasi neanche ancora possibile cioè forse il fatto che io che sia successo quando era da qualche mese che ero già venuta via prima di rendermi conto che la cosa fosse vera ci ho messo del tempo nel senso che ancora adesso qualche volta mi capita di magari avere anche delle domande sui ragazzi di qualcosa che succede a scuola e quello che avrei fatto e che ho sempre fatto è chiamarlo scrivergli un messaggio chiedergli informazioni e adesso alcune volte mi manca ancora questa cosa tra l'altro quando ho scoperto che è morto ero proprio qui in questo salone col cellulare in mano perché me l'ha detto al mattino presto Don Fabrizio che è un suo amico qui di Besana e che è venuto a saperlo come altri sacerdoti prima di noi e quindi me lo posso spiegare fisicamente a livello di quella che è la finitezza e il limite della persona umana quindi della malattia il perché credo che lo chiederò a qualcuno a tempo debito ok non c'è più tempo ma ci vediamo tra poco con qualche altra domanda e continuo l'intervista ma siamo davvero alle ultime domande quindi non potete perderla allora è vero è vero allora un'altra delle ultime scomparse questa invece riguardo proprio il territorio di Sovico è stata la morte di Don Carlo come l'hai presa? allora io quando è morto Don Carlo ero in India con Don Giuseppe e alcuni sovicesi che eravamo là per l'ordinazione sacerdotale di Giuseppe quindi diciamo che credo che questa cosa cioè l'essere lì insieme a Don Giuseppe e anche ad altri molto legati a Don Carlo mi ha permesso di sentire questa cosa ancora molto più vicina e di condividerla in un modo particolare perché ho seguito un po' diciamo anche le vicende di quei giorni e quindi mi ha permesso di ripercorrere un po' anche quello che è stato il mio rapporto con lui che è stata per me una presenza molto discreta molto silenziosa poi negli ultimi tempi non ci si vedeva tantissimo ma sempre presente cioè io mi ricordo ecco proprio il mio ultimo ricordo è l'abbraccio quando abbiamo fatto una abbiamo celebrato una delle messe in ricordo di Don Simone in cui mi ha abbracciato proprio forte quindi per me era proprio una presenza fissa e adesso quello che io provo è come avere un nonno un angelo in cielo ok attualmente dove ti trovi? perché vabbè ovviamente non sei più solico quindi dove sei adesso? allora adesso abito a Besanabrianza e nello specifico nella parrocchia di Montesiro perché il comune di Besanabrianza è diviso in sei parrocchie e questa dove siamo adesso è la casa parrocchiale di Montesiro uno dei luoghi della casa parrocchiale che è dove abito e diciamo che collaboro presto servizio nella pastorale giovanile qui in collaborazione diciamo con Don Fabrizio che è responsabile della pastorale giovanile e poi faccio qualche altro servizio in oratorio con i bambini ecco sia di Montesiro e un po' in ambito comunità ok cosa diresti ad una persona che sta guardando questa intervista? prima era riferito in particolare ai sovicesi adesso in generale una cosa che vuoi dire tua? oh mamma in generale cioè chiunque sta guardando questa intervista sovicese o non sovicese qualcosa vi saluto vi ringrazio perché state ascoltando se siete arrivati fino a qua è perché avete una grande pazienza e se vi conosco vi saluto tanto se non vi conosco chissà magari capiterà un giorno e vi auguro ogni bene ok va bene in questi anni avere fede è sempre più difficile soprattutto per quelli più giovani ma anche non solo per quelli più giovani ma insomma in particolare per i più giovani secondo te perché? perché penso non so che forse avere fede è innanzitutto avere una relazione appunto di fiducia con Dio e se penso all'essere cristiani nello specifico con Gesù e avere anche una relazione di fede e di fiducia con chiunque con una persona è anche una questione di volontà non è sempre tutto così spontaneo così immediato ci sono alti e bassi e io credo che invece oggi il mondo ci passi un po' il messaggio che dobbiamo vivere quello che sentiamo sul momento se poi cambia si cambia ecco quindi a volte anche avere fede richiede una forza di volontà che tante volte invece sembra un po' essere passata in secondo piano non c'è più tempo? no allora ci riamm tra poco e continua l'intervista ma siamo arrivati alle ultime tre domande due domande normali più la domanda bonus allora vai prossima domanda tre aggettivi per descrivere o il tuo lavoro o te come persona o se vuoi anche entrambi con sei aggettivi te la puoi cavare facciamo il mio lavoro allora ricchezza per la ricchezza delle persone che incontro divertimento perché mi diverto un sacco e profondità perché profondità perché mi accorgo che nella nelle lezioni che faccio cioè o meglio nella materia che insegno che è religione c'è davvero l'opportunità di andare in profondità anche delle cose e secondo me i ragazzi hanno bisogno ancora di profondità ok sì perché non abbiamo detto se fosse capito tu insegni religione giusto ok vabbè questo uno ci poteva arrivare allora vai prossima domanda cosa invece diresti ad una persona che si sta affacciando al mondo religioso è che è una bella sfida che ti coinvolge pienamente quindi non è una cosa che uno vive come dire a compartimento stagno ecco di di non mollare e che per Gesù se magari è una persona che si avvicina alla fede cristiana vale la pena ecco ok e adesso a sto punto siamo arrivati all'ultima domanda la domanda bonus oggi ti voglio far parlare di agg tv no eh sì ma l'ho cambiata l'ho cambiata allora no oggi cambia la domanda però la domanda bonus rimane comunque ti voglio far parlare tanto con loro oggi quindi ti chiedo che cosa diresti ad una persona atea che sta guardando l'intervista allora secondo me di non smettere mai di farsi domande di porsi le domande e se per caso qualcuno arriva un po' a bussare alla porta della tua vita e non riesci tanto a capire chi è o che cos'è eh di accettare anche la sfida di comprendere cioè di non pensare comunque di essere mai arrivati nel darsi una risposta ok va bene allora l'intervista è terminata io ovviamente ringrazio Laura De Capitani per aver concesso questa intervista al TC Suic e noi ci vediamo la prossima volta grazie ciao ciao